Aiuto! Ti ho procurato due colloqui Un uomo che si è chiuso in bagno Cos'è che è andato sto? Per il Gandhi di Portanaccio Sto qua dentro a un niente Sì, continuo, sono un niente Giacomo, sono mamma, apri un attimo Il prossimo Ti sei drogato? Come sta? Sono un po' increccato Il cane, li facciamo insieme gli eserciti Qual è il suo problema mentale? Ti posso fare una domanda? Hai mai passato di prenderla? Da come io ho una notizia bomba Quante le abbiamo passate? Che insieme Dignano, adesso! Puttana! Anna, Anna, Anna Roversi è un genio o un coglione? Coglione! Non, non, non Non, non Non, non, non Non, non Non non! Non non mi sembra una